Equipaggio 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 Qui vostro migliore amico computer di porto di base lunari Mi dispiace di disturbavi Ma la turbina di iniezione Submolecolare della cisterna principale Ha preso fuoco E' richiesto un intervento Immediato Equipaggio 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 Cochpegnoni Cochpegnoni Non è mia intenzione di disturbala Ma abbiamo un serio problema alla cru Cochpegnoni 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 Santignoni Equipaggio 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 Maledizione Aciderbolina Aciderbolina Cosa faccio? Disattivo convogitore di flusso Ecco Ecco Caspita Accidenti Dottor Rambelli L'ho trovata Mi vuole disturbarla mentre esprime il suo genio No? Avremo un problema abbastanza urgente a diversi dispositivi Hai richiesto il suo intervento immediato Ma mi chiuse Sei sicuro? Devo proprio venire? Direi proprio di sì Non vorrei sembrare insistente Ma la situazione potrebbe diventare irrecuperabile Va bene arrivo Arrivo Ho paura Ma quindi? C'era un incendio Piuttosto esteso devo dire Ma dove? Ecco Al convogitore di flusso e al mulino Dopo Prima Alla cisterna Credo E al Radio faro Forse Al radio faro? Ma quando McHugh? Adesso Credo Alla cisterna Prima Poi tutto No le varole emozionali Poi Insomma No Io ho da fare in laboratorio No 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 Ho bisogno di fare questa cosa qua No Non fa niente Mi devo essere sbagliato In qualche modo No Equipaggio 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 Unito 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 Unito